buongiorno a tutti buona domenica da campanaro 67 indovinano dove mi trovo a cellino attanasio in provincia di teramo a pochi chilometri da atri questa è la facciata con la scalinata della chiesa di santa maria in nova piccolo il mondo è il mio carissimo amico di delle campane rossano zepponi di un paesino che si chiama manca faccia apposta santa maria nuova e questa è la facciata con lo splendido rosone di santa maria in nova molto bello ovviamente il portale la famosa scalinata che è particolare in quasi tutte le le chiese d'abruzzo ed ecco il campanile allora il campanile ci sono quattro campane prima seconda terza sono elettrificate mentre la quarta è solo a martelli a quanto pare questa è la seconda impianto italsono e adesso sentiremo anche che cosa è previsto per il suono del mezzogiorno questo è la costeggiata mancano quattro minuti adesso vedremo che cosa è è impostato con la ripresa semilaterale del campanile appunto lato nord nord ovest da dove possiamo vedere benissimo la campana maggiore eccola e ovviamente l'orologio l'orologio ragazzi è indietro di un'ora sopra ovviamente c'è un altro piano con la quarta campana però fissa e suona solo a martelli e adesso ci spostiamo su per vedere cos'è impostato a mezzogiorno eccomi in una specie di veduta aerea sono su un bel vedere di cellino attanasio questo bellissimo borgo dell'abruzzo costiero in provincia di teramo e adesso manca poco a mezzogiorno vediamo cos'è impostato da qui si vede benissimo la campana maggiore eccola qua eccola qua sì sì i soliti commentini che so che fanno molto ridere ma la prima persona essere contenta sono io e mi piace trasmetterla gioia anche ad altri cosa suonerà cosa suonerà mai comincia a far cri 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 una cicala beh in effetti la giornata è bella non è più il caldo torrido di luglio però fa ancora molto caldo ok no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, la quartina suona il battione. Eccola qua. Allora, la quartina suona. Che rintocchi morbidi. Bella. Che rintocchi morbidi. Che bel campanone ragazzi. Ma da quello che ho capito... A mezzogiorno suona solo il 3451. E va bene, male non è. Ho chiesto a una signora del posto se suonava alle 15 la 21 ora e mi hanno detto che fino a una quindicina di anni fa la suonavano. Ora purtroppo si è persa questa tradizione e tanto tempo che va, tempo che cancella le tradizioni di una volta. Ebbene, a più tardi quando riprenderemo la distesa per la Messa delle Sei, sempre qui da Cellino a Tanasio in provincia di Teramo. Ciao a tutti per il momento da Campanaro 67.